Aiuto! Pronto 911? Sono rinchiuso in una cassa, seppolto. Dovete aiutarmi, non riesco a respirare. Come ci è finito in una cassa? Non lo so, sono stato colpito alla testa e sono svenuto in l'ultima cosa che ricordo. Servono 5 milioni di dollari o mi lasceranno morire qui? Ok, signor Corro, io adesso mi chiedo. Aspetti, 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 aspetti. Come conosci il mio nome? Che sta succedendo? Dove sono i soldi? Mi serve più tempo, la prego. Fatemi uscire, mi farò avere i soldi, lo prometto. No, 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 no! Non, no, no, no. No, no, bene! Si, grazie!